Il corso Le Organizzazioni Positive offre a manager, HR e leader strumenti concreti per trasformare la cultura aziendale, migliorando il benessere e la performance. Basato sull'evidenza della correlazione positiva tra felicità dei dipendenti e produttività, il programma sviluppa pratiche innovative per innalzare motivazione, creatività e risultati aziendali. I partecipanti potranno creare prototipi per ottimizzare le prestazioni, apprendendo un modello di leadership che valorizza il contributo del team e del singolo, generando benefici per l'organizzazione e la comunità. Puoi scegliere se seguire il corso in modalità interaziendale nelle date programmate oppure organizzarlo presso la tua azienda, personalizzandolo. Sulle tue esigenze, entrambe le modalità possono essere finanziate con fondi impresa o fondi dirigenti.